L'anno che abbiamo appena passato è stato dolorosissimo per l'umanità intera e di riflesso anche per il cinema. Sale chiuse per gran parte dell'anno, lavoratori in crisi il 70 per cento di incassi in meno e anche i festival cinematografici hanno visto mancare uno dei più importanti, quello di Cannes a metà dell'anno. Per fortuna ci sono stati però anche dei momenti di interesse, dei grandi film. A Berlino a febbraio abbiamo visto due film italiani importanti, Volevo nascondermi di Giorgio Diritti con Elio Germano che interpreta il pittore Ligabue e Fabolacce dei fratelli d'Innocenzo, una vera e propria rivelazione di uno stile originale, forte, ben definito. A Venezia ha trionfato con il leone d'oro Nomadland con Frances McDormand che interpreta una senza fissa dimora in un film sugli homeless, su una sacca sociale dell'America che conosciamo meno e lo interpreta con una grande forza, con una grande tenacia, con una vitalità meravigliosa. Frances McDormand una delle grandissime attrici del panorama mondiale. Venezia ha rivelato anche il talento straordinario di Vanessa Kirby che ha interpretato Pieces of a Woman, frammenti di una donna, come interpretazione intensissima, meravigliosa, dolorosa, straordinaria. Poi ci sono stati due attori italiani che hanno dominato la scena in qualche modo, Pier Francesco Fabino che non ha bisogno di presentazioni, che ha interpretato meravigliosamente Crax in Hammamet di Gianni Amelio e che ha interpretato Padre nostro andato in concorso a Venezia e Luca Marinelli che aveva interpretato Martin Eden premiato nel 2019 a Venezia ma che è stato indicato come un attore insanely hot, incredibilmente affascinante, dal critico del New York Times che ha messo Martin Eden al primo posto fra i film dell'anno di quest'anno appena trascorso. Quindi l'Italia ha un motivo di orgoglio in più se vogliamo. Molti gli attori che ci hanno lasciati, tra cui Sean Connery, Gigi Proietti e Lucia Bosè, deliziosa signora senza camelia del film di Antonioni e di tanti altri film, e Kim Ki-Dok, uno dei più grandi registi dell'Oriente sudcoreano di film durissimi. Poi ci sono stati il Festival di Roma che ha portato Cosa sarà di Francesco Bruni, che affronta con grande delicatezza il tema della malattia con un bravo Kim Rossi-Stewart e poi andiamo verso il futuro. Verso gli Oscar si parlerà del processo ai Chicago 7, di Mank, di David Fincher, si parlerà di Adam Sandler in Diamanti Grezzi, ma questo è il futuro. Il futuro che ci dirà che da ora in poi i film in sala dovranno convivere con l'uscita in streaming sulle piattaforme. La Warner Bros. ha già deciso che l'uscita sarà ibrida e dovremo farcene una ragione. Non sarà necessariamente un male, perché poi in certi luoghi dove le sale sono lontane, poche, irraggiungibili, potremo ugualmente disporre dei film più belli come e quando vorremmo noi. Certo, sarà un lavoro in più per il critico, perché dovrà mettere un po' di ordine in questa grande massa di uscite, di proposte, di titoli, di nomi che le piattaforme proporranno in maniera ovviamente caotica e confusa. Quindi ci sarà un lavoro anche per noi, aspettiamo anche 007 No Time To Die e aspettiamo il film di Carlo Verdone, Si vive una volta sola.